Il mio partito, il PD, è sempre stato favorevole per esempio al Mattarellum e io stesso guardo molto positivamente al Mattarellum. Peccato che Grillo abbia detto che lui vuole mantenere l'attore legge elettorale oppure avere un proporzionale. Il governo ha formulato un invito a ritiro, quindi il deputato Giacchetti invece ha mantenuto la mozione, quindi indico la votazione numero 153. Il parere del governo, lo ribadiamo, deve intendersi contrario. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 563, votanti 554, astenuti 9, maggioranza 278, favorevoli 139, contrari 415. La Camera respinge. Io rubo davvero 20 secondi per ricordare al collega del Partito Democratico un nome che andando sul sito attuale della Camera vedo che l'onorevole Giacchetti fa parte del Partito Democratico e al momento l'onorevole Giacchetti aveva presentato una mozione proprio per cancellare immediatamente quello che il collega del PD definiva un'infausta legge elettorale che è il Porcellum e, per quanto risulta dai rapporti stenografici, la mozione Giacchetti, oltre ad aver visto ritirate tutte le firme dei colleghi del Partito Democratico che l'appoggiavano, ha visto soltanto in quest'Aula votare a favore di questa mozione SEL e il Movimento 5 Stelle. Questi sono i fatti, il resto sono chiacchiere. Queste le lasciamo a voi. Grazie. E io stesso guardo molto positivamente al Mattarello. Peccato che Grillo abbia detto che lui vuole mantenere l'attuale legge elettorale oppure avere un proporzionale. Voglio vivere così, col culo in faccia, che felice canto, beatamente. Voglio vivere così, senza vergogna, canto all'agonia, non finirò. Io entro all'asso e me ne foto, tanto poi grido al complotto e pulito me ne andrò. Avrò bocca e le doffiato, tanto qualche disgraziato che d'accordo ci sarà. Voglio vivere così, col culo in faccia, e te dice canto, canto per me. Grazie a tutti.